Non si tratta di una festa della Venezia Giulia, mentre per la festa della patria del Friuli si tratta proprio di un momento celebrativo che peraltro appunto ha luogo da 20 anni, forse anche più 30 anni. Per quanto riguarda invece la Venezia Giulia non è una festa, anche perché innanzitutto non c'è nulla da festeggiare. Uno. Due, perché non avremmo trovato peraltro una data comune condivisa tra l'area ad esempio di Grigorizia, la Bisecchieria, piuttosto che quella triestina, non c'è un momento. Ma soprattutto anche perché, ripeto, non c'era un'angessità. Quello che invece abbiamo istituito con questa proposta di legge che peraltro è già stata depositata appunto alcuni giorni fa è una giornata non fissa nell'arco dell'anno, una giornata perciò nell'arco dell'anno da dedicare agli approfondimenti della conoscenza della nostra terra. Perciò se la tisana si riconosce o non si riconosce è un problema di, naturalmente, un problema dei singoli. Non si tratta di individuare dei confini tra il Friuli e la Venezia Giulia perché questa proposta, permettendo che io sono stato anche correlatore di maggioranza della proposta di legge istitutiva della festa della patria del Friuli, questa proposta innanzitutto non vuole essere in alcuna misura un contraltare, come qualcuno aveva sussurrato, un contraltare alla festa dei Friuli, anzi vuole completare. Io sono delle idee che con quella... Ascolta, vediamo l'alabarda sventolare sul comune di Udine. Ma no, ecco, non ho proprio previsto l'uso delle bandiere, anche perché è irrilevante, nel senso che, visto che lo scopo è quello di conoscere la nostra storia, io la storia la conosco leggendo, non la conosco con un'alabarda sul palazzo municipale da Ronco a Udine. Anche se, francamente, se mi trovassi in piazza municipio a Gorizia, l'alabarda di Trieste, la bandiera friulana, quella di Mipordione, insieme a quella goriziana, a me non potrebbe far altro che piacere, perché dobbiamo essere consapevoli che la friulina Giulia è la sommatoria di tutte le sue componenti. C'è chi si riconosce una bandiera, chi meno. Dobbiamo riconoscere anche un'altra cosa, peraltro. Che mentre i Friuli davvero ha un forte senso identitario, io da goriziano percepisco questa difficoltà nell'individuare una forte identità goriziana. Uno si sente italiano, un bisiaco non si sente di San Piero, di San Canziano, un po' mofalconese o Isuntino, si sente comunque italiano. Certamente c'è qualcuno che può sentirsi più, mi riferisco ad esempio alla città di Grado, è più facile nelle isole avere questo senso di comunità, questo senso perciò di identità un po' più marcato rispetto agli altri, anche per l'uso della lingua, eccetera. Perciò non è comunque perciò una, li voler elevare steccati della Venezia Giulia contro il Friuli, assolutamente. Premesso ciò, perciò come dicevo, lo scopo di questa legge è quello di consentire, soprattutto ai più giovani, ma a tutti, di conoscere meglio la propria terra. Oggi noi conosciamo di più la storia dell'impero romano, magari conosciamo il Rinascimento, conosciamo il 700-800, almeno così mi auguro che i giovani queste pagine storie le abbiano studiate, ma cosa sanno i giovani di Trieste della storia della loro città? Cosa sanno i giovani di Gorizia, di Monfalcone, di La Tisana, di Codroipo? Ecco questi.